Bella a tutti ragazzi di Quirain e benvenuti a questo nuovo video Siamo tornati qui su Minecraft come al solito Con uno strano episodio Che si tratterà di una nuova serie Mi dispiace per la Asteroid e per quella insieme a Boris Perché quella insieme a Boris innanzitutto non funzionava più il server Prima di tutto Poi quell'altra invece Quell'Asteroid ho perso il salvataggio Quindi vi assicuro, vi prometto che questa serie la completerò Ve lo prometto anche perché io odio le cose non complete E di youtuber che non completano le serie appunto Quindi vi assicuro che questa serie la completerò Allora, innanzitutto questa serie è una mappa sky Tipo skyblock, ma articolare Che poi vi farò vedere Allora, quindi questo sarà il primo livello Prima ho letto i cartelli Devo attivare la leva questa E ho 13 secondi per raccogliere tutte le cose dentro le casse E poi buttarmi di sotto Se no, schioppo Vediamo un attimo cosa c'è Cosa c'è dentro queste casse Buono C'è qualcosa lì dietro? Vabbè, no Ok, ok No Qui c'è Spada Quindi devo prendere questa cassa qui Questa cassa qui E Queste Appunto Allora, pronti Oddio, brividi 3, 2, 1 Veloce, 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 veloce Bella Oddio, che momenti di lag Esplode tutto Oh, oh, oh Che cacchio fai? Scheletro di merda Scheletro di merda Porco, dove mi ha fatto Oh, se è crepavo, vi giuro Vabbè Comunque, questa qua È la mappa Sky Come vedete Tipo, tutto pieno de De robaccia Lì c'è il castello fungo E Boh Un po' de roba Vabbè, comunque Come ho detto È una mappa survival E spero che vi piaccia Ma dopo ve la farò Cioè Più avanti la conoscerete meglio E ho visto che è una grandissima mappa A me piace molto Dalle immagini E Boh Spero che vi piace anche a voi così La continuo Allora, intanto qui Allora Apriamo qui Ok Li piazziamo tutti Così si fanno Le canne da zucchero Che non so a cosa ci serviranno Però Allora, poi ho visto che qui Aspetta Fammi abbassare poco poco Il suono Oppure che non me si sente Allora Allora, ci prendiamo Il legnone E leviamo le foglie Che Ci intralciano Ok Poi Poi Mi sa che Devo tenermi belli stretti I materiali Perché non credo Che ce ne siano molti Comunque mi scuso ancora Per le serie Oddio mio Se andavo da sotto Vabbè E mi scuso ancora Per le serie Di aver lasciato Incomplete Perché Cioè mi dispiace anche a me Perché era Un asteroide Mi piaceva Perché ancora stavo all'inizio Cioè praticamente Dovevo trovare Tutte le caverne Gli indizi Diventava una bella mappa E Pure Vabbè Quella con Boris Però ora C'è un momento Con Boris Ci facevamo una serie Sul survival Normale Perché Cioè praticamente Il server nostro C'era un problema E Vabbè Intanto qui Mi faccio Una Crafting E una Chest Allora Praticamente con Boris C'avevamo un problema E Dove nascevamo Non ci si distruggevano i blocchi Cioè non ci si distruggevano i blocchi E quindi non potevamo andare avanti Perché Sotto ai blocchi Avevamo scoperto Che c'è stata una grotta Ecco ora piove Cioè io registro E piove Logicamente Cioè La legge è proprio Oddio Ho visto la morte in faccia L'ho vista L'ho vista Bruta L'ho vista L'ho vista Bruta Fiamo Una mezza zingara Ecco Allora Ci facciamo Sto legno Sì Ci facciamo una Chest Ok E la mettiamo qua Perché ho visto che c'è il portale del nether Quindi se ci entro almeno Posso la roba Allora Mettiamo Questo qui E Legno Tutto Mi lascio solamente La spada e la pala No La spada e il piccone Facciamo La spada Quella non è una spada Quella Quella fa le seghe Ecco qua Ah Aspetta Aspetta Ci sono dei sapling Piantiamo prima dei sapling Ok 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 Quindi Quelle sono i sapling Allora Io prenderei un attimo Questo legno Qui Prima che Marcisca Tanto Non guardo di sotto Perché mi prende Il panico Perché so che ci stanno tipo Il buio L'oscurità Oh mio dio Oddio 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 Ok In salvo In salvo In salvo In salvo Allora innanzitutto Possiamo questo legno qui Ci prendiamo la palona E Iniziamo a raccogliere Un po' di terra In modo Da farcene Una scorta Magari Per rendere Cioè se tipo Ci serve per salire Da qualche parte O O per fare Un ponte O Boh Se ci serve Insomma Ok Prendiamo questa 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 che ho messo Prima Oddio Ancora Ancora Anche Ci sono Questi Buchi Buchi Allora Prendiamo Questa Ok Io farei No Volevo fare tipo Lì la casetta Però no Allora Un attimo Sti Buconi Così Qua Un levo Nio Mi spiccia A casa Nio Quello De matrix E poi Io fare Un attimo Una cosa Molto Tattica Per Dai Su Su Per prenderci un po' De Dico Di pietra Insomma Allora Scaviamo Scaviamo Ok Andiamo qua Se c'è qua un buco Ok Allora All'inizio Ero indeciso Tra questa serie qui E la Technic Pack Che Avevo scaricato Oddio Mio il buco Madonna mia Ste cose Mi fanno Pugli i corpi No Pezzo Di pietra Do Vabbè comunque Oddio mio Non riesco a fare un discorso Che mi trovo i buchi davanti Allora Ero indeciso Tra questa serie qui E la Technic Pack Però Ho visto che la Technic Pack Ce ne stanno davvero tante In giro E che sta serie Ancora non l'ha Non l'ha fatta ancora nessuno Insomma Quindi Allora Ci prendiamo questa Pietra C'è pure del Ferro No Comunque Vabbè Come tutti gli inizi È Noiosa Poi credo che Se la sgara No No Cosa vuoi fare Porco Due lobby No 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 Torna su Vabbè Qua ce lo ricordiamo Che c'era il ferro Allora Torniamo su Veloci Allora Posiamo questa roba qui E io prima di Chiudere Volevo Volevo Andare a vedere un attimo Il neder Il neder Che c'era C'è scritto là Oh Non ci vedo Oh Cristo Dio Guarda un po' Che devi fare Per leggere i cartelli Ok Quindi dice Che Morirai C'è Pronto a morire Sei pronto a morire Metti tutto dentro una cesta E porta di Oh Una spada Un piccone Proprio Quello che avevo preso Ok Allora Io impugnerei Il pesciolone E namo Into the wild Sono fiammietta cicogna Che cacchio è oh Che cazzo Su è che Oddio Vivo Sono vivo Sono vivo Ma che cazzo C'è un mob Spawner lì sopra Non l'avevo visto Oddio mio Regà Oddio mio Strippato Oddio Da qua No Non si prende Non si prende Corri 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 Da qua Da qua Si Spacca Spacca Si Chi è che mi tira le frecce Oddio mio Non voglio Non voglio morire Eccolo Eccolo Sono morto Sono morto Che brutta cosa Che è successo Gold block Gold block Gold block Gold block Diamo un block Diamo un block Iron block Iron block Ah queste Queste credo Siano le missioni Da fare Sono morto Sono morto Subito Primo episodio Muore Perché Sono una sega Dove stavamo noi Primo C'è Come ritorno a casa io Cioè Me lo spiegate Cos'è successo Ah eccola Quella era casa nostra Ho capito ora Ok Ora ho capito Ora andiamo Andiamo Quella è casa nostra Qui Go Eh vabbè Oh ma qui allora Cioè Me lo potete di prima Ma piove sempre Dentro sta mappa No io spero Fino a che non ritorno Dentro il coso Si prepara il tuffo Campione italiano Prova Prova il Triplo carpiato Senza Senza vedere Non vede Guarda per a Non vede Eccolo Muore E vai Il campione italiano No vabbè E' pieno di scheletri Come mi guadagno La posizione Scusate Ma se mi tuffo Sopra Portale il nether No Non va Non va E lagga No Ma se Aspettate Mi metto un attimo Eccolo qua Eeeh Ciao Chico Chico Bella Bella Chico No dai veramente Io devo riprendere A casetta Se no questi Ecco qua Ok ora posso rimettere pure La difficoltà Lol Ok Il giorno Non lo faccio più Ve lo prometto Ve lo prometto Ok quindi Io credo che per il primo episodio sia tutto Perché già ho fatto troppe stronzate Non voglio farne altre E ci si vede al secondo Se vi è piaciuto Mettete un bel mi piace Magari Iscrivetele al mio Al mio canale Chiudiamo sta cascata Sì Decisamente Eeeh Quindi qui la rain Eeeh Bella